giocattolo sospeso può essere una bella occasione per permettere a tutti noi di compiere un gesto che per quanto banale possa sembrarci può essere invece un'occasione per rendere felici tanti bambini e bambine della nostra città anche quest'anno ci sarà il giocattolo sospeso è possibile aderire e mi raccomando numerosi dovete essere attraverso il portale del comune di napoli dove troverete l'elenco di tutte le cartolibrerie dei giocattolai che hanno aderito al progetto oppure sul portale www.ilpagnere.it slash giocattolo il giocattolo è un diritto di ogni bambino giocare una cosa importante e noi daremo questo a questo natale la possibilità a tanti bambini di avere un giocattolo o un libro nuovo mi raccomando dovete essere numerosi grazie a tutti